Siamo con Francesco Schiavone che è stato rieletto all'interno della lista dei popolari di Manfredonia nell'ultima tornata della scorsa domenica negli amministrative di Manfredonia con un ottimo risultato. È stato in assoluto il secondo tra i più suffragati. Se lo aspettava questa conferma? Ah sì, noi abbiamo lavorato bene anche in Consiglio Comunale tra i banchi dell'opposizione. Abbiamo provato anche a fare un'opposizione costruttiva. Mai nulla di personale nei confronti di chi amministrava. Abbiamo concentrato la nostra azione soprattutto per migliorare quello che era migliorabile. Alcuni atti sono stati studiati in maniera approfondita ed eravamo così, sempre con questo spirito propositivo e collaborativo, appunto a cercare di dare il nostro contributo. Io sono felicissimo innanzitutto per il risultato della lista che rappresento. Progetto popolare che sfiora così il 9% confermando, anzi aumentando anche in maniera percentuale quello che è stato il risultato del 2021. Con oltre 2.300 voti di lista riusciamo a portare in Consiglio Comunale, nel caso di Vittoria, di Domenico Lamarca Sindaco, ben tre consiglieri comunali. Per questo ringrazio davvero tutti i candidati di Progetto Popolare che hanno contribuito in effetti alla crescita della nostra lista e a suggellare un risultato che per noi è davvero prezioso. Domenico Lamarca Sindaco, l'ha detto poco fa, ci sarà questo balottaggio tra Lamarca e Galli. Il distacco al primo turno è stato abbastanza considerevole. Per il secondo turno ci sarà un apparentamento, ci sono già dei dialoghi con altre forze? Ma guarda, noi davvero eravamo ad un passo dalla vittoria. Credo che quasi tre punti percentuali equivalgono a circa 900 voti. Quindi non abbiamo portato a casa la vittoria nel primo turno solo per una manciata di voti. Domenico Lamarca, il mio candidato sindaco, ha il pregio di parlare direttamente agli elettori in maniera anche diversa, se vogliamo dirla tutta, rispetto a passato. Meno politichese, più discorsi pragmatici ed è evidente che l'elettorato ha apprezzato con il 46-64%, credo, se non vado errato. Questo modo di fare, questo linguaggio ha apprezzato la nostra coalizione, evidentemente ha apprezzato anche i punti programmatici che abbiamo elencato. Qui c'è la necessità di ripartire subito, di ripartire bene e chiaramente c'è la necessità a questo punto di vincere il ballottaggio. Noi abbiamo in cassa circa 12.000 voti, è chiaro che il ballottaggio è un'altra partita, proveremo a non contaminare, voglio dire, con cose strane, ma proveremo a tenere i nostri valori in piedi. E' chiaro che il progetto è un progetto chiaro, è un'offerta politica chiara, forse per questo è stato anche apprezzato dall'elettorato. Siamo aperti chiaramente a tutti coloro che vogliono il bene di questa città. Noi non possiamo più fallire, noi non possiamo più sbagliare. Manfredonia non ha un punto di ritorno questa volta. È una possibilità straordinaria che abbiamo di ripartire subito e ho visto anche in caso di vittoria, per esempio del mio candidato sindaco Domenico Lamarca, i candidati consiglieri che uscirebbero in caso di vittoria davvero sono eccellenti. Cioè noi avremo un bellissimo consiglio comunale, almeno per quanto riguarda la maggioranza di Domenico Lamarca. Gente preparata, gente che ci mette passione, gente competente. Sono lì, i nomi sono lì, finalmente li possiamo leggere. Ecco faccio anche l'imbocca al lupo a chi poi dovrà amministrare in consiglio questa città. E a proposito di questo, visto che comunque i popolari sono la seconda forza della coalizione, in caso di vittoria di Lamarca e con voi a Palazzo Stadomenico, quale sarà il vostro apporto, in quale ambito vi vorrete collocare, in quale, tra virgolette, assessorato puntereste più che altro per dare il vostro contributo al rilancio di Manfredonia? Ah, può sembrare strano, ma anche questo è un modo nuovo di fare politica. Noi nella coalizione non abbiamo parlato di posizioni, di poltrone. Davvero, può sembrare strano, ma io ci metto la faccia e vi giuro che non abbiamo mai parlato di posizioni già preconfezionate. È una coalizione fatta da tanti giovani che ci hanno messo passione evidentemente in questa campagna elettorale. Saremo pronti, chiaramente, una volta vinto il ballottaggio, a discutere anche a seconda delle varie competenze su chi poi dovrà assurgere anche al ruolo di amministratore, quindi di assessore. E credo che anche in quella direzione ci sarà una bella squadra, fatta di persone che finalmente possono dare un impulso serio alla città, che ne ha davvero bisogno. E quindi, in conclusione, il suo appello al voto per il prossimo 23 e 24 giugno al ballottaggio? Bisogna partecipare, bisogna partecipare al voto, recandosi alle urne, perché è giusto decidere le sorti di questa città. Io vi invito a votare per Domenico Lamarca, finalmente una persona che parla ai cittadini in un altro modo, in maniera più diretta. Bisogna votare Domenico Lamarca perché la città ha bisogno di ripartire subito, ha bisogno di ripartire con delle persone competenti. Domenica 23 e lunedì 24 giugno, rechiamoci al voto e mettiamo una bella X sul nome di Domenico Lamarca. Grazie. 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 Grazie.